Come era nelle previsioni una battaglia fra le parti, il processo ripreso questa mattina in corte d'assisa ad Alessandria e che vede imputati Antonella Patrucco e il marito Giovanni Vincenti, entrambi accusati di omicidio plurimodoloso aggravato per la strage di Quarniento che nella notte fra il 4 e il 5 novembre dello scorso anno causò la morte di tre vigili del fuoco del comando provinciale. Dopo che tutte le parti hanno dato consenso all'acquisizione degli atti, l'udienza è iniziata con la perizia di Elvezio Pirfo, direttore della struttura complessa dell'Asleto 2, con l'incarico di direttore del Dipartimento di Salute Mentale Giulio Maccacaro, chiamati in causa da Lorenzo Repetti e Vittorio Spallasso, legali difensori di Gianni Vincenti. Pirfo nella sua relazione ha in pratica riferito che l'imputato, facendo uso e abuso di psicofarmaci da dieci anni, è caduto in una forma di depressione narcisistica ansiosa. Pubblico Ministero e parti civili hanno a loro volta richiesto che il Vincenti venga periziato anche dai loro periti, il tutto per allontanare l'ipotesi che la sera della strage abbia agito in uno stato psicofisico tale da non permettergli di capire cosa stava realmente accadendo. Poco prima di entrare in aula, davanti al Tribunale di Alessandria, si è svolto un presidio da parte del sindacato USB di Alessandria, in totale dissenso con le dichiarazioni del GUP Paolo Bargero, che nelle motivazioni della sentenza pronunciata alcuni mesi fa al termine del primo troncone del processo alla coppia Vincenti, aveva ritenuto imprudente il capo squadra dei Vigili del Fuoco che la notte della strage intervenne nella villetta. Siamo qui questa mattina per dare un seguito alle proteste di una sentenza che ci vede bollati, infangati, che ci colpisce alla schiena in quanto siamo stati considerati imprudenti. Il pericolo di questa sentenza, che se passerà ingiudicato, potrebbe fare giurisprudenza sicuramente e ci metterebbe in difficoltà su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo una tipologia di lavoro che sì, mette a rischio le nostre vite, ma lo facciamo per la comunità, perché questo è il nostro lavoro, abbiamo dei protocolli che ci atteniamo scrupolosamente, ma su certe tipologie come mettere delle bombe o roba del genere noi non siamo preparati su quello e quindi noi abbiamo ritenuto di agire bene.